Prima di affrontare il tema del rischio sismico, occorre fare una breve premessa. Dobbiamo infatti tornare per un attimo a 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando la Terra era ancora una sfera incandescente di materiale magmatico liquido. Il suo progressivo raffreddamento, tuttavia, ha causato la solidificazione dello strato superficiale che noi oggi definiamo crosta terrestre. Questa crosta, costituita sia da continenti emersi, sia da fondali oceanici, è spezzettata in varie parti, dette placche o zolle, che galleggiano, scivolano, si muovono, seppur impercettibilmente, sugli strati fluidi e roventi più interni del nostro pianeta. Potremmo dunque paragonare la crosta terrestre a un enorme puzzle, i cui pezzi sono rappresentati da placche mobili alla ricerca dell'incastro giusto. Come avete a questo punto già intuito, il terremoto è una rapida e violenta vibrazione della crosta terrestre, dovuta all'enorme energia sprigionata dallo scontro o attrito sotterraneo tra due placche. Il punto esatto di contatto tra le placche, situato a una profondità che può variare da una manciata a diverse decine di chilometri, è detto ipocentro. L'epicentro, invece, è il punto in superficie perpendicolare all'ipocentro, oppure, detto più semplicemente, è la località posta esattamente al di sopra dell'ipocentro e che avverte con maggiore intensità gli effetti del terremoto. Tale intensità è calcolabile sulla base di due scale diverse. La scala Richter, quella più utilizzata a livello internazionale, misura la quantità di energia sprigionata nell'ipocentro e utilizza un'unità di misura chiamata magnitudo, variabile da 0 a 10. Affinché un terremoto sia percepibile dalla popolazione, è necessario che la magnitudo superi almeno quota 2.5, mentre la soglia oltre la quale il sisma può cominciare ad avere effetti distruttivi è una magnitudo di 4.5. La scala Mercalli, invece, si basa più soggettivamente sulla conta dei danni provocati a strutture e persone.